16 novembre 2021, messaggio di Nostra Signora Regina della Pace. Cari figli, non temete. Riempitevi di speranza, perché il mio Gesù è al vostro fianco. Vi chiedo di essere uomini e donne di preghiera. Quando sentite il peso della croce, chiamate Gesù. In Lui è la vostra forza e senza di Lui nulla potete fare. Non vi allontanate dalla preghiera. Quando siete lontani, voi diventate bersaglio del demonio. Il mio Signore vi ama. Amatelo sopra ogni cosa. Voi siete nel mondo, ma appartenete al Signore. Accogliete il Vangelo e abbracciate gli insegnamenti del vero Magistero della Chiesa del mio Gesù. Ancora avrete lunghi anni di dure prove. Sarete cacciati fuori a causa della vostra fede e del vostro amore per la verità. Coraggio. Qualunque cosa accada, non tiratevi indietro. La vostra vittoria ma è il Signore. Egli si prenderà cura di voi. Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Grazie. 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 Grazie.